C'è un limite oltre il quale la politica non può andare ed è il rispetto delle procedure e delle leggi. Ci sono le competenze che sono politiche, ci sono le competenze che sono tecnico, giuridico e amministrative che fanno capo ai dirigenti degli enti preposti, i quali, finché non vedo prova contraria, ritengo che stiano facendo le procedure a norma di legge. Se poi voi avete delle notizie diverse o delle indicazioni che vanno in senso contrario a quello che ho detto, avete i tavoli voi, l'azienda, deputati a fare le verifiche del caso. L'unica cosa che so è che noi siamo da mesi cercando di risolvere un problema che non era così semplice. Abbiamo anche apprezzato l'intervento della politica a livello regionale, però a noi ci sembra che è impotente di fronte ai burocrati dell'aulentezza. Bisogna accelerare perché qui rimaniamo senza lavoro. La questione è questa, si sta sostanzialmente decidendo di non decidere sulla vicenda VECO. La vicenda VECO deve avere dei contorni ben precisi. Se ci sono problemi per la salute dei lavoratori o per i cittadini, chi ha raccolto dati, informazioni, lo deve chiarire e deve motivare delle decisioni. Se così non è, se siamo di fronte invece a delle procedure amministrative, allora la chiarezza impone un percorso e delle decisioni chiare sulla vicenda. Invece sembrerebbe che il timore, la paura delle responsabilità stia invece determinando una situazione insostenibile. Quindi noi questa cosa qui non la possiamo più tollerare. Questi rimandano piano piano, così nessuno prende la decisione e la VECO muore, e la ditta non può produrre. VECO muore e 80 persone rimangono senza lavoro, più tutto l'indotto, quindi siamo 150 persone senza stipendio, rimaniamo senza niente per Natale e per tutte le feste. Quindi vogliamo sapere che qualcuno deve prendere la decisione.